Oggi vi presento il nostro primo decreto legge del primo Consiglio dei Ministri del Movimento 5 Stelle. Se domenica deciderete di dare la maggioranza al Movimento 5 Stelle. Al primo punto dimezziamo lo stipendio ai parlamentari della Repubblica. Al secondo punto togliamo i vitalizi ai politici. E al terzo punto di questo decreto tagliamo 30 miliardi di sprechi e privilegi e li rimettiamo in aiuti alle famiglie che fanno figli, a chi perde il lavoro e ai pensionati. E al secondo punto di questo decreto legge del primo Consiglio dei Ministri del Movimento 5 Stelle.